fagioli strattonato poi barbarella salta bene un uomo barbarella alla prima vera occasione il numero 9 realizza il gol dell'uno zero palla dentro la tocca a regis il pareggio del cj col suo miglior marcatore sesto gol di regis e 1 a 1 del cj colpo numero di t6 che va addirittura al tiro dalla distanza la palla rimane lì regis appoggia in rete in gol del 2 a 1 ribalta tutto regis fa tutto da solo il cj passa in vantaggio pallone di ritorno prova a piazzarla manozzi con il destro fa due a due a tre minuti della fine va sultare in panchina il numero 3 chi sei allargano bene il pallone per ammirante che la piazza da due passi pala mettono dentro ma probabilmente ammirante segnare il gol del 32 che riporta subito in avanti il cj